Evolvenza, reincarnazione, evoluzione della coscienza, Vitaliano Bilotta, la reincarnazione spiegata ai ragazzi, nove storie, sentire non è ascoltare, non è udire, è molto più, sentire è informarsi con l'anima, I libri del casato, il giornale dei misteri. Al lettore Qualche anno fa, Insetto, il ragazzino che ebbe a battesimo che ho visto crescere, mi chiese di scrivere un libro per fargli capire che cos'è Revolvenza. Io scrissi alcune esperienze di ragazzi cui applicai come commento l'insegnamento delle guide che si manifestano attraverso grandi medium come faccio da molto tempo per i libri dedicati agli adulti. Da allora Insetto, che adesso è cresciuto, non mi chiede più che cos'è Evolvenza. L'autore Adesso leggeremo la prima pagina del libro e alla fine della pagina leggeremo le note di insegnamento relative a quella pagina. Primo I piedi di Tonino Giocavano spesso a Piazza Navona, facendo lo slalom tra le gambe dei passanti. La loro era una passione seria, non giocavano a palletta. Ma si allenavano per sfidare la squadra della scuola avversaria, che nel quartiere era considerata il Brasile del pallone. Perciò si dedicavano più al gioco estroso che al gioco di squadra, cercando di rimediare alla mancanza di prestanza fisica con un gioco veloce e rasoterra, fatto di soluzioni imprevedibili, che doveva spezzare il ritmo di chi era più alto e più robusto di loro. Erano in sette e ubbidivano agli ordini di Tonino. Tra le gambe dei passanti Il giocare a pallone tra le gambe dei passanti è il riflesso di un grado di evoluzione che non tiene conto del fastidio che si arreca. La loro era una passione seria. La passione per un ideale è sempre seria perché esprime la parte più elevata di noi. Era considerata il Brasile del pallone. Un numero sempre maggiore di persone non ne può più del gioco del calcio. Eppure continuano a vedere partite di pallone. Accade perché anche chi non è interessato a quello sport rimane legato alla media della sua gamma di sentire e ancora si crea e percepisce gli incontri di calcio. Gioco estroso L'estro è un'ispirazione che proviene dai sottopiani più elevati della mente. In pochi hanno l'estro perché le persone che hanno un'evoluzione medio-alta sono poche. Prestanza fisica Non a caso un individuo non ha prestanza fisica. Se in vite precedenti si è abusato, ad esempio, della forza del proprio corpo fisico, nella vita che si considera si può nascere con il cuore malformato perché quest'organo è il motore del corpo fisico che doveva spezzare il ritmo. La mente vince sul corpo e la coscienza sulla mente. Ubbidivano agli ordini di Tonino Tonino era un leader. Non occorre però essere dei leader dei capi per vivere al meglio. Occorre invece essere degli umili lavoratori di se stessi che lavorano per un mondo nuovo e migliore iniziando da se stessi.